Ho già detto che sono felice di stare qui con voi e sono anche emozionato e mi fa piacere essere emozionato, perché vuol dire che predicare la parola di Dio non è diventato niente di scontato per la mia vita. Quindi se farò qualche sbarione, incoraggiami, non prendermi in giro, però ti ho già detto che sono emozionato, quindi ho buttato le mani avanti. Se io ti dicessi Natale, Christmas, Noël, pastore come si dice Natale in portoghese? Feliz Natal in portoghese. Questa parola è universale, soprattutto nella cultura occidentale. Oggi il tema sarà il Natale, sarà un tema un po' particolare e parlerò di qualcosa che sembra scontato ma non lo è. Ora il Natale è una parola che conosciamo tutti, c'è chi lo festeggia in una maniera, chi lo festeggia un'altra. I cristiani, noi cristiani festeggiamo la nascita di Gesù. Ora io lo so, ognuno di voi sa che è difficile identificare il giorno preciso in cui Gesù è nato, non lo sapremo mai, ma questo è un buon periodo in cui il mondo si ferma e riflette su chi è venuto a nascere sulla terra che noi calpestiamo. E questo è un incoraggiamento, è una benedizione. C'è tanto mistero, ma noi vogliamo abbracciare totalmente quello che Dio ha avuto per l'uomo. Giovanni 1,9 dice che la luce che illumina ogni uomo è venuta nel mondo. La luce. Quando arriviamo nel periodo di dicembre, non so se a te capita, a me capita, noi entriamo tutti in modalità natalizia. Ci sentiamo forse più buoni, siamo presi dalle musichette di Natale, vediamo i negozi addobbati, cominciamo a pensare cosa fare e cosa non fare. E la nostra cultura, quello che viviamo da tanti anni, l'Occidente è fatto così e oggi vorrei parlare anche in minima parte di una piccola sfumatura di questa grande festa. E voglio farti una domanda, non mi rispondere. Qui c'è. Hai mai fatto un albero di Natale nella tua vita? Almeno una volta. Ora io oggi non voglio scandalizzare nessuno, non voglio andare oltre quello che la parola ci insegna, però voglio già dirti che nella Bibbia troviamo tanti alberi, l'albero della conoscenza del bene e del male, l'ulivo, il fico. Non preoccuparti, purtroppo non trovi l'albero di Natale. Non c'è. È stato creato molti, molti anni dopo dalla tradizione. Adesso noi nella cultura occidentale ci sono, come abbiamo detto, diversi modi di festeggiare il Natale, diversi modi di attuare il Natale, il senso e il centro è sempre lo stesso e la nascita di Gesù e nessuno sa come è nato l'albero di Natale. Ci sono alcuni che dicono in Estonia, altri dicono in Lettonia, ci sono tanti esempi storici. Probabilmente le luci che vediamo sull'albero nascono dalla tradizione protestante, perché un giorno Martì Lutero stava girando e vede un albero con delle stalattiti, non so se si dice così, comunque del ghiaccio, e rimasse così colpito che cominciarono a mettere le candele sull'albero. Quindi la luce e poi le candele giustamente saranno sostituite con la corrente elettrica. La tradizione protestante si dice questo, la tradizione cattolica invece dice che si dà a San Francesco il merito di aver creato il presepe. Ognuno ce ne dice qualcuna, ma noi possiamo dire tranquillamente io non c'ero. Quindi non sapremo mai, però abbiamo preso queste eredità, queste tradizioni che dobbiamo sviluppare nella maniera buona. La cosa bella è che, come dai vostri sorrisi, tutti conoscono che cos'è l'albero di Natale, di questo periodo basta accendere la tv e abbiamo due foto. So che sapete che cos'è un albero, ma vorrei farvele vedere per farvi notare due particolari. Questo è il primo albero, guardate com'è grande e guardate com'è illuminato, ma l'albero ha una caratteristica, possiamo mettere la seconda? Che nella sua tradizione noi sotto l'albero normalmente mettiamo un dono. Ora, quello che mi piace dell'albero di Natale, che vi ripeto rimane un simbolo, come ce ne sono tanti, erano due cose. Sapete che quello che voi vivete da piccoli, quello che viviamo da piccoli è qualcosa che ci rimane fermo nella nostra vita e c'erano due motivazioni per le quali quando io ero piccolo amavo l'albero. La prima è che sicuramente avrei trovato un dono bello. I miei genitori, i miei parenti mi avrebbero fatto un regalo, ora non importava qual era il regalo, ma era bello il principio di andare a scartare qualcosa che era solo per me. Ma la cosa per cui io amavo di più questo simbolo era un'altra, che la mia famiglia, il giorno del Natale, era l'unico giorno dove si riuniva nella sua totalità. Celebravamo la nascita di Gesù ed eravamo tutti, un sacco di persone, ma quello che mi rimaneva impresso è che l'albero di Natale rappresentava il punto di incontro in cui tutti ci scambiavamo i regali. E questa cosa ha seminato qualcosa di buono nella mia vita, perché mi ha ricordato l'albero non come la celebrazione di una festa che sicuramente è anche economica, sicuramente c'è molto marketing e si guadagna molto su questa festa, ma quello che mi ricordava era il senso di insieme, il punto di incontro. Ora sono state fatte delle statistiche molto particolari, non le citeremo tante, ne dico solamente due, ci sono state molte persone che parlando dei regali hanno detto, noi non spendiamo soldi per i regali, perché per i regali formali e per le persone poco importanti li ricicliamo, da quelli che non ci sono piaciuti. Chi ha mai fatto questo nella sua vita? Tutti l'abbiamo fatto, quindi io l'ho fatto. Però la maggior parte delle persone ha dichiarato che per il proprio partner o per un figlio, per un marito o per un parente stretto non avrebbe badato a spese in base alle proprie possibilità, quindi avrebbe provato a dare il meglio per quello che poteva. E in questo tempo io mi stavo chiedendo, naturalmente senza scandalizzare nessuno, ma se il cielo avesse un albero e se io avessi un albero e sotto quell'albero potrei mettere tutto quello che parte del mio cuore, tutti i miei desideri, tutte le conseguenze che hanno formato la mia vita e ciò fosse il risultato di quello che potrei donare a Dio e agli altri, cosa potrei mettere sotto quest'albero? E vorrei leggere con voi qualche versetto dal Vangelo di Marco. Leggo dal capitolo 10 di Marco, dal 17 al 23 e poi leggo il versetto 27. Stiamo parlando del dono. Posso? Hai il vostro permesso? Vi ho annoiato? Smetto? No, c'è il pastore che ha già la predica pronta in canna se vi sto annoiando. Posso? Ho il pasto permesso? Grazie. Mentre Gesù usciva per mettersi in cammino, un tale accorse e inginocchiatosi davanti a lui gli domandò, maestro buono, che devo fare per realizzare la vita eterna? E Gesù gli disse, perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. Tu sai i comandamenti, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non fare torto ad alcuno, onora tuo padre e tua madre. Ed egli rispose, maestro, ma tutte queste cose io le ho osservate fin dalla mia giovinezza. E Gesù guardatolo in viso l'amò e gli disse, una cosa ti manca, va, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. Ma egli rattristatosi da quella parola segnando addolorato perché aveva molti beni. E Gesù guardatosi intorno disse ai suoi discepoli, quanto difficilmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio. E Gesù, versetto 27, riguardateli, disse, agli uomini è impossibile, ma non a Dio perché tutto è possibile a Dio. Questo è un brano della Bibbia che è molto conosciuto. Tutti conoscono la storia del giovane ricco, la scuola domenicale la insegniamo, leggiamo, molti hanno scritto di questa storia e c'è un giovane che intraprende una conversazione con Gesù. Ora leggendo tutti e tre racconti, perché questa storia la troviamo in Matteo, Marco e Luca, sembra che tutti e tre gli evangelisti che scrivano siano presenti perché ognuno di loro sembra che scriva da una prospettiva diversa, anche se non erano lì, o quantomeno non tutti. E Marco ci dice che un giovane andò e si inginocchiò, Matteo ce ne parla come uno dei capi, Luca ci dice che una persona andò da lui e lo interrogò, ma la cosa che mi colpisce è che questa persona che capiamo che era un religioso si inginocchia davanti a Gesù. E se eri un religioso dell'epoca era molto raro che tu ti saresti inginocchiato davanti a un uomo. E questo giovane corre da Gesù, non è Gesù che chiama, ma è questo uomo che vede qualcosa in Gesù e va a chiedere e dice maestro ma come posso fare per avere la vita eterna? Lui è giovane, è molto ricco, vediamo dalla parola di Dio ed era una persona che si umilia, si umilia davanti a Dio. E che cosa succede? Che dalle sue parole vediamo qualcosa di sensazionale. Hai mai sentito il detto predichi bene, razzoli male? Non era una persona che conosceva solo la legge, ma era un matto perché la metteva anche in pratica. Matto in prospettiva a quello che facciamo molti di noi. È difficile mettere in pratica la legge, è un impegno importante e costante, ma questo ragazzo conosceva la legge e la metteva in pratica e voglio farti una domanda, quanti di noi non vorrebbero avere un amico come lui? Una brava persona, una persona che non ruba, che non dice bugie, io voglio avere un amico del genere. Allora Gesù comincia la conversazione, Gesù non fa domande, è il giovane che fa domande e comincia con un'affermazione, tu sai i comandamenti. E gli ricorda i comandamenti, non uccidere, non rubare, l'abbiamo letto? E qual è la reazione del giovane? Sei mai andato a fare un concorso pubblico, un esame all'università, un colloquio di lavoro? Almeno una volta nella vita tutti l'abbiamo fatto. E vorrei farti un esempio. Il giovane è in una condizione molto particolare, perché siccome se lui dovesse fare un esame, e non so a chi è capitato, a me sì, è studiare un solo argomento di tutta la vastità dell'esame, e andare lì e Gesù gli fa una domanda, gli fa un'osservazione e gli dice tu sai i comandamenti, e quel giovane in quel momento ora ha pensato, wow, è l'unica cosa che so, è l'unica cosa che io vivo. Oh, se so i comandamenti, da piccolo li mettevo in pratica. Wow, è io che mi sono inginocchiato davanti a Gesù per chiedere qualcosa che io già vivevo. È meraviglioso, immagino la gioia di questo ragazzo. Ma che cosa succede? Che Gesù lo porta alla luce, la luce del mondo. E ascoltami un attimo, se ci fosse stato un albero di Natale nella vita di questo giovane, sarebbe stato il momento in cui le luci si accendevano e facevano vedere cosa c'era sotto il suo albero, cosa c'era nel suo cuore. Una cosa ti manca, una sola cosa ti manca. Va, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi. Quindi Gesù gli fa vedere qualcosa che quel giovane non avrebbe mai voluto vedere. Se io fossi stato in Gesù, non so tu, io la prima cosa che avrei fatto, gli avrei detto, ragazzo, grazie per quello che fai, grazie perché sei un esempio, la legge l'ha data mio padre, tu sei un testimone di come si mettono in pratica i comandamenti, ti voglio abbracciare, grazie, continua così perché vogliamo persone che fanno le cose, che non le conoscono sole, ma Gesù che cosa fa? Va, vendi tutto quello che hai. Gesù non si fissa su quello che funziona nella sua vita, ma guarda quello che in quel momento lo sta separando da Dio. Il Signore accende la luce sulla vita di questo giovane. Ed è molto particolare quello che Gesù dice perché Gesù colpisce il punto di forza della vita materiale di quest'uomo che era diventato il punto di debolezza della sua vita spirituale, quel muro che si alzava fra lui e Dio nonostante lui seguiva la legge e conosceva i comandamenti di Dio. La cosa che mi colpisce è che Gesù non chiede i suoi soldi, non gli dice ma noi abbiamo bisogno di economia per il regno di Dio, abbiamo bisogno di soldi, faremo questo, 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 andremo in quella città, andremo quello, compriremo le provviste, andremo a dormire lì, andremo a dormire lì, Gesù non fa niente di tutto questo, ma lo mette a nudo perché gli dice tu che sei ricco, probabilmente quel giovane aveva ereditato la ricchezza perché anche lui voleva ereditare la salvezza, ma gli dice dagli alle ultime persone che tu consideri, dagli ai poveri e poi non solo liberati di quello che ti separa da Dio, ma vieni da Dio, seguimi, chiamata personale. E io non so se questo giovane dopo che è andato via avrà mai pensato a che cosa aveva perso in Dio, ma se per caso lui l'avesse fatto avrebbe vissuto una vita di rimorsi, dire di no alla chiamata di Gesù, che tortura deve essere per la vita di qualcuno che ha compreso. Dio ci ha dato qualcosa di meraviglioso, ora qualcuno di voi potrà dirmi ma allora la legge è sbagliata, non serve servire alla legge, no assolutamente, la legge è buona, la legge ci è stata data per il piacere di Dio, per il nostro bene, perché io seguendo la legge posso adempiere la legge di Dio, ma posso essere protetto in Dio. Dio non mi ha dato delle regole morte, ma delle regole che mi avvicinano a Lui, che mi fanno comprendere la sua santità, la sua natura, la sua bellezza, per quanto io sia un uomo. Ma c'è un problema. Che cosa succede quando io voglio arrivare a Dio con le mie forze? Più di qualche problema. Il ragazzo aveva un problema. Immagina se tu oggi prendessi una decisione, io so che la tua vita è meravigliosa, che è la nostra vita, che ci impegniamo, ma se io oggi uscissi da questo locale e dicessi, da oggi non voglio commettere più un errore e voglio rispettare tutti i dieci comandamenti che trovo in esso doventi e non ne voglio sbagliare nessuno, e ti dirò io lo farò da oggi, tu mi diresti, che bugiardo che sei. Sapete perché? Perché nonostante la mia attitudine e nonostante la mia motivazione, io sicuramente uno prima o poi lo sbaglierò. Oggi stesso sicuro. E che cosa farò? Che quando io mi sarò reso conto di aver sbagliato andrò davanti a Dio e dirò Signore perdonami perché ho sbagliato. E che cosa succede? Che mentre andrò da Dio mi ravvederò, chiederò perdono al Signore, probabilmente poco dopo ne sbaglierò un altro e tornerò da Dio e ne sbaglierò un altro e tornerò da Dio e diventa una lista della spesa infinita peggio di quelle che andiamo a fare quando dobbiamo fare il cenone di Natale. Non ce la puoi fare ad arrivare a Dio con le tue forze e solo con la forza della legge perché siamo mancanti, perché siamo terribilmente uomini. E che cosa succede? Succede qualcosa di meraviglioso. Quando Gesù è morto sulla croce ha detto una frase che ha cambiato la storia dell'uomo. È compiuto. Quando Gesù ha compiuto la sua opera di salvezza ha instaurato qualcosa che prima l'uomo non conosceva in maniera profonda. Sai come si chiama? Si chiama relazione. Quando Dio ti dà la rivelazione di suo figlio, la legge cambia prospettiva perché la luce che illumina ogni uomo accende la luce anche in te, anche in noi. E attraverso quella luce e la relazione io posso camminare con Dio ed essere pienamente accettato da Dio. Sono perfettamente gradito a Dio perché il Signore prende la vita di Gesù e la butta sulla legge e la porta a compimento nella mia vita. E quando io mi guardo allo specchio non vedrò più Luca, ma vedrò Luca attraverso Gesù perché quando Dio guarda la mia vita guarda la giustizia di Cristo che è morto per me. E questo fa la differenza nella mia vita, la luce che illumina ogni uomo. Io non posso fare nulla per convincere Dio ad amarmi, niente di niente. Scordalo, non ci provare perché Dio già ti ama. Non posso fare niente per attirare l'attenzione di Dio sulla mia vita perché in Cristo Lui è pienamente soddisfatto. Ma quello che io posso fare è chiedere a Dio rivelazione e chiedere a Dio di ricevere suo figlio. E quando arriva il figlio nella mia vita nulla è più simile a prima perché si accende la luce. Quello che prima non capivo attraverso lo Spirito io lo comincio a comprendere. Riesco a capire come poter vivere una vita libera, leggera, senza pesi, in comunione e in compagnia di Gesù. Io ero nei pensieri di Dio in maniera così profonda che se Lui avesse avuto un albero del cielo il dono che Dio avrebbe messo per me era il suo dono più grande, suo figlio. Il suo dono più grande poteva diventare, può diventare ed è diventato il mio dono più grande. Ora ci sono persone che non si donano completamente a Gesù perché hanno paura. perché hanno paura, trattengono qualcosa per la loro vita perché non si fidano abbastanza, cadono nella fiducia. La loro vita potrebbe essere simile a un albero meraviglioso ma senza doni. sai come si cattura una scimmia? Se c'è qualcuno vivo può alzare la mano? Tutti morti in questo locale? Grazie. Scusate, chiedo scusa se c'è qualche scimmia nel locale. Chiedo scusa, scherziamo. Sai come si cattura una scimmia una volta lessi questa cosa? E praticamente un cacciatore non può andare nella foresta con il suo fucile a sparare una scimmia. Sapete perché? Perché perderebbe tempo. Perché il suo habitat domanda tu affronteresti mai uno squalo nell'acqua? Ma magari lo faccio uscire fuori dall'acqua perché se no è lui che cena con me. Il cacciatore va nella foresta, sceglie una radura e porta con sé un bidone. Gli fa un foro molto piccolo, scalda delle noccioline e le butta dentro il bidone. Che cosa succede? E poi si nasconda. Che cosa succede? Che il profumo delle noccioline esce fuori dal bidone. Allora la scimmia è incuriosita, la scimmia è molto curiosa e va, sente questo odore, qualcosa che le piace, mette la mano dentro e che cosa succede? Nel momento in cui prende le noccioline chiude il pugno. E sai cosa succede? Che quando tira fuori il pugno, il foro è piccolo e non riesce a tirare fuori la mano. Allora la scimmia in quel momento deve combattere, se lasciare quella cosa che gli piace tanto, oppure provare fino alla fine. E sai che cosa succede? Che mentre la scimmia si sforza a prendere le noccioline, arriva il cacciatore, senza problemi, gli dà una botta in testa e la mette nel sacco. Scimmia catturata. Ti sei mai sentito una scimmia nella vita? Ti sei mai sentito di aver avuto l'atteggiamento che ha questo animale creato da Dio? Spesso anche noi ci concentriamo su qualcosa che vogliamo a tutti i costi e non riusciamo a lasciare a Dio perché quello diventa il centro delle nostre preghiere, il centro dei nostri desideri, vogliamo vivere solo per quella motivazione e tutto il resto sparisce. E che cosa succede? Perdiamo di vista quello che Dio, quello che tanto di meraviglioso Dio vuole dare alla nostra vita. Perché? Perché scegliamo di non fidarci. Che questa mattina possiamo riflettere su chi è la mia fiducia, che cos'è? Per il giovane erano i suoi soldi, per la scimmia erano le noccioline, ma cosa c'è nella mia vita che non mi permette di fidarmi di Dio? Ma quando incontriamo Gesù, Lui ci incontra come siamo, ma non per lasciarci come siamo, ma ci trasforma, ci libera, in modo che noi possiamo diventare un dono e perché no un miracolo per la vita di qualcun altro. Altre persone invece non si donano a Gesù perché potrebbe voler dire sofferenza. Allora teniamo tutto per noi, perché toccare certi punti della nostra vita ci può far soffrire. E un giorno lessi un articolo di un ragazzo adolescente che probabilmente viveva, non so, in Oceania, forse in Nuova Zelanda, in Australia, in quelle zone molto particolari, dove c'è molta foresta e dove c'è molta natura meravigliosa. E raccontava che praticamente questo ragazzo viveva su una casa vicino a una laguna e questo ragazzo amava molto nuotare. E sua mamma ogni giorno gli diceva sì, non ti posso impedire di nuotare, ma se vai a nuotare, fai attenzione agli alligatori. Per favore, se vedi un alligatori, scappa via. E tutti i giorni questo adolescente andava a nuotare e sua mamma lo guardava perché non poteva vivere con l'idea che suo figlio sarebbe stato preso. E che cosa succede un giorno? La paura più grande di quella donna si realizza. Mentre questo ragazzo nuotava compare un alligatore che va verso di lui, la donna comincia a gridare, il ragazzo comincia a nuotare, ma l'alligatore lo prende per le gambe. E la donna lo riesce a prendere per le braccia e cominciano le grida e questa donna tirava e l'alligatore tirava una scena straziante finché non arrivano delle persone che riescono a mettere in fuga l'alligatore. Arriverà l'ambulanza, verrà preso in ospedale, verrà tanti interventi, e a certo punto che cosa succede? Questo ragazzo torna a casa e la stampa, un giornalista lo va a intervistare e gli va a chiedere wow, tu sei un miracolo perché noi abbiamo un'alta percentuale di persone che affrontano un concodrillo e giustamente vengono mangiate, tu no, anzi addirittura i medici dicono che tu tornerai a camminare. Mi fai vedere le ferite delle tue gambe perché voglio fare una foto per il giornale. E sapete questo ragazzo cosa risponde? Tira fuori la coperta, fa vedere le cicatrici nelle sue gambe, il giornalista fotografo gli dice una cosa, gli dice tu ti sei fissato sulle cicatrici che sono sulle mie gambe che mi ha causato l'alligatore, ma io sono fissato sulle cicatrici che sono sulle mie braccia, che sono le ungue di mia madre che non mi ha lasciato andare. Qual è la differenza? Che l'amore di Dio è sulla nostra vita, è stato donato in Gesù. E a volte nella vita tu potrai soffrire, potrai avere dolore, ma io mi fido del mio Dio che crea la ferita, ma la guarisce, dice la parola di Dio. Ma tutte le ferite che ti causerai tu saranno grandi dolori che ti riporterai per sempre. I psicologi ci insegnano che i traumi dell'infanzia sono quelli che ci portiamo per tutta la vita se non li risolviamo. Il Signore vuole guarire la nostra vita totalmente. Tutti hanno paura delle ferite, ma le ferite che hai quando incontri Gesù, con il dono di Gesù, Dio le trasforma in una vittoria per benedire qualcun altro. Il dono di Dio può guarire perfettamente ogni ferita che ci fa male, ma è ancora più incredibile che spesso rimangano i segni. Esiste la chirurgia plastica, abbiamo invitato perché tutti vogliono essere perfetti, nessuno vuole le ferite, nessuno vuole ricordare i segni, ma vorrei ricordarti qualcosa che per me è meraviglioso. Se io ti dicessi Tommaso, nessuno non sa chi è Tommaso. Perché? Perché subito pensiamo il discepolo che non credeva. Ma voglio dirti una cosa, i segni. Quando Gesù torna dopo la sua risurrezione, appare i discepoli e la parola di Dio, Giovanni ci dice che Tommaso non era fra loro. Allora tutti vanno da lui, è venuto, il Signore è tornato. Immagina dieci persone che ti dicono la stessa cosa e tu continua a dire, no, io non ci credo. Una personalità molto forte, ho una tristezza molto forte, una delusione molto forte, non lo sappiamo. Ma mi piace pensare che Giovanni ci dice ma Gesù torna e Tommaso era fra loro e questa non è dottrina, ma mi piace pensare che Gesù sia tornato apposta per Tommaso. E che cosa fa? Tommaso aveva detto se io non tocco le sue ferite non crederò. E Gesù che cosa fa? Tommaso, metti le mani nelle mie ferite. Ora questa storia per me è incredibile, perché quando leggo tutta la Bibbia, nel Nuovo Testamento, Gesù mi è rappresentato come un uomo di dolore, Isaia, che simpatizzava con la sofferenza, nel Vangelo quante volte Gesù ha sofferto per persecuzioni, per persone che non credevano, quelli che erano con lui non credevano e lui doveva soffrire e sopportare, persone che non capivano. Sulla croce è stato trafitto, sputato, gli è stato dato dell'aceto, nudo davanti a tutti. Quale sofferenza? Ma arriva il momento che lui è a fare a Tommaso, Tommaso mette le mani dei segni e la Bibbia cosa fa? Non parla di dolore, perché c'era la gloria in quei segni. I segni che hai in Dio o vengono guariti, ma la cosa più grande è che quella cicatrice non ti ricorderà più il dolore, ma ti ricorderà una vittoria. Quindi se stamattina hai qualche segno, hai qualche ferita, falla guarire da Gesù, perché quando la guarderai ancora una volta ti ricorderai non è stato il mio fallimento, ma la sua vittoria che è stata data alla mia vita, il mio dono. Posso entrare in questo? In questo? Solo attraverso la fede. E se è troppo duro, fidiamoci delle parole di Gesù. Agli uomini è impossibile, ma a Dio tutto è possibile. Ora, non importa se io abbia un albero dove possa mettere doni per qualcuno oppure no, ma ciò che importa è che il mio cuore possa ricevere il dono di Dio nella mia vita per poter essere la mia vita stessa un dono meraviglioso. Che Dio continui a benedirci. Amen.